Nasce a Napoli, all'ospedale Annunziata, il primo consultorio per le donne con disabilità. Si tratta del terzo esempio virtuoso di buona sanità in Italia, quello realizzato dalla ASL Napoli 1, che ha provveduto all'acquisto della sedia ginecologica per donne con disabilità. A parlarcene Rosetta Papa, direttore dell'unità operativa complessa Salute Donna. Abbiamo approfittato che nell'Annunziata non ci sono barriere architettoniche e quindi possiamo offrire un luogo di accoglienza alle donne che per vari motivi hanno una disabilità motore e quindi non potrebbero essere visitate su sedie ginecologiche normali. Il Presidio Sanitario dell'Annunziata ha come suo mandato istituzionale la tutela della salute delle donne e del bambino e nel tempo stesso sta potenziando in termini di accoglienza e presa in carico tutti i reparti. E' stato anche acquistato infatti un ecografo ad alta sensibilità per effettuare il test prenatale. Questo test rientra nei Nuovilea e verrà offerto subito dopo l'inaugurazione, come conferma il ginecologo Ciro Picardi. Faciliterà la visita, l'accesso già è felicitato dagli spazi, poi giunta qui l'aiuteremo a salire sulla sedia e non avrà difficoltà a poter effettuare la visita. E mentre i comitati di cittadini chiedono che l'Annunziata e la Scalesi restino un punto di riferimento per il quartiere, all'esterno il degrado invade le strade di accesso agli ospedali. Siringhe di tossicodipendenti ricoprono marciapiedi e riempiono le aiuole, dove ogni giorno mamme e bambini transitano per raggiungere gli ambulatori, uno scandalo a cui il Comune di Napoli e Asia devono in tempi rapidi mettere fine.